Musica Musica Partirà il 9 agosto la terza edizione di Restate a Napoli, rassegna di musica, teatro, danza, cabaret e arti performative che si svolgerà fino al 16 agosto in piazza Plebiscito. Il programma, quest'anno particolarmente vario, è stato presentato nell'auditorium della Porta del Parco di Bagnoli. Sono previsti tre spettacoli al giorno a partire dalle 19.30, tutti ad ingresso libero con prenotazione. No, io sono veramente onorato di poter condividere pure un pezzetto di parco con il maestro dell'Arena. Noi l'abbiamo fatto per un solo motivo perché effettivamente nel nostro nome è già scritta la collaborazione, Roberto Collellarina. Tanti auguri a questi ragazzi, questi nuovi artisti che devono crescere, devono crescere, ma non in fretta. Prendetevi i tempi vostri perché noi amiamo la fatica Napoli. I posti a sedere disponibili sono circa 3.300. L'iniziativa è finanziata e promossa dal Comune di Napoli con la direzione artistica di Lello Arena. Siamo in condizioni di offrire delle serate straordinarie che tecnicamente non ci potremmo permettere, ma invece in funzione del talento, dell'amicizia, della comunicazione, anche dell'apertura di una gestione di questo palco in maniera collettiva e non individuale, succedono delle cose molto belle che io sono molto felice di mettere a disposizione del pubblico che sarà presente. Ci sono tre spettacoli. C'è una fascia che è quella che chiamiamo dei boccioli, cioè di nuovissimi talenti che si stanno formando e che invece di arrivare a Piazza del Prebiscito partono da Piazza del Prebiscito per avere la loro occasione di visibilità. Abbiamo una fascia intermedia e sono circondato dal meglio del meglio di quello che si vedrà in futuro nel panorama dello spettacolo in Italia. Abbiamo otto spettacoli che sono il frutto della formazione di tre mesi del corso di Cioè. Nel cartellone serale sono in programma spettacoli di Nino Frassica, Paolo Cagliazzo, I Foia con Valerio Iovine, La Nina con Clementino e Big Mama, Rosalia Porcaro, Maria Nazionale, Roberto Colella, Vincenzo Comunale, con le incursioni di Francesco Cicchella, Alessandro Bolide e naturalmente Lello Arena. Ogni sera saranno in scena i giovani artisti del progetto Cioè, 110 nuovi talenti selezionati fra oltre 4.000 domande pervenute che hanno frequentato i corsi di alta formazione del Centro Interdisciplinare Opportunità Espressive curato da Lello Arena ed Enzo De Caro. I loro spettacoli, basati su scritture originali, saranno variamente ispirati agli sketch storici del trio La Smorfia. Restate a Napoli da un lato offre grandi eventi alla città e ai turisti, dall'altro valorizza i giovani dell'Accademy di Cioè, fatta nel nome di Massimo Truisi, 110 ragazzi che hanno fatto tre mesi di formazione ad altissimo livello e che si esibiranno nella piazza più bella di Napoli e quindi del mondo. E quindi ecco che restate a Napoli sia spettacolo, sia grandi eventi, sia formazione di industria culturale. L'obiettivo è proprio quello di fare industria culturale. Che cosa significa? Significa creare ponti con la music industry o con l'industria dell'audiovisivo, del teatro, ma anche e soprattutto fare formazione e valorizzare i nostri giovani talenti, che sono tanti ma purtroppo non c'è un sistema che li possa valorizzare. Sono costretti ad andare fuori. Per la prima volta abbiamo un'Accademy che accoglie talenti da tutta Italia, anche da fuori Italia, qui a Napoli. Un'estate che è dedicata a tutti i napoletani e turisti, ma soprattutto ai cittadini napoletani e non napoletani che restano in città, che quindi avranno modo di avere tanti spettacoli gratuiti, di grande qualità, per trascorrere del tempo insieme, per fare comunità, per avere la possibilità di trascorrere delle ore di spensieratezze e di allegria. Mettiamo insieme degli artisti affermati, con degli artisti emergenti, diamo un'opportunità di lavoro, un'opportunità per farsi conoscere. Insomma, guardiamo al futuro della città, partendo anche dai tanti giovani talenti che io credo siano veramente la vera energia che abbiamo a Napoli. La rassegna Restate a Napoli rientra fra i progetti di Napoli Città della Musica.